facciamo giornata speciale quindi facciamo gioco horror raga io non so se faccia paura se non faccia paura io so che è un bel gioco horror eccoci qua fatemi spegnere tutte le luci ok raga sei pronti? vedete il volume è al massimo eh ok ok penso di essere una barca a casa sull'albero ma le porte non si aprono? ah posso anche correre una barca premi e sposta per aprire la porta abbastanza semplice no non fa paura ok l'inizio il primo atto c'è un cacchio c'è un che di teatrale questo gioco quello era il tutorial basta aprire le porte questa è l'unica cosa che devo sapere del tutorial quella cos'era? ma io non ci capisco un cazzo allora cos'è questo? ok mi ha messo il metronomo oh raga dovete darmi una mano qua perché sembra un gioco tipo di tranelli ma che cazzo è sta roba? perché devo aprire l'acqua? ma c'è bel tempo fuori sento delle voci eh eh buai ascolti una volta che arrivi faccia quello che devi fare arrivi al set e construita questo personaggio per lui è tutto ciò che importa anche se non mi piacciono le barche del mare qui c'è un ascensore questo è chiuso c'è un ascensore vai vamos eh infatti ci sta ci sta mi piacciono le cose intrippanti ok easy io non ho mica paura non mi piace perché non ho ancora avuto paura per troppo tempo vuol dire che tra poco mi dovrà fare uno spavento pazzesco no 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 era aperta quella porta orca puttana lo sapevo lo sapevo ci doveva questa cosa qua adesso è chiusa no invece no esci fuori coglione monella 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 ehi perché cadono tutti i vasi dio c'è può cadere qualsiasi cosa un libro un bicchiere i vasi cadono vai cadi perché non cade sto vaso infatti questo si è rotto però questo vaso si è rotto c'è c'è Gira, gira, tonto! C'era uno dietro di me, non ci credo. C'è sempre un modo. Allora, devo scappare indietro. No, non mi ricordo, cazzo! Oh! What the fuck? Ecco, grazie, perché non mi ricordo, bastardo. C'è sempre un cervello che c'è. Allora qua non si capisce se fa parte della realtà o del film Secondo me si fa parte del film o forse il film in realtà Va bene adesso Cazzo il disegno spastico è quello Ho già visto? Deve essere in questo disegno Secondo me è qua, secondo me è in questo affare No Allora le devo tornare indietro Io non ci capisco un cazzo Non vedo che numero è No non è un 2, non è un numero Allora è qua, è nel disegno dei pirati Questo disegno ci deve essere per un motivo Allora io sono veramente, sono ritardato ragazzi Ma come fate a vedere che è 7 Ma io sono scemo allora Nel teschio? Sono ritardato Allora lo vedete 7 Dai sta la merda 7, 1, 4 14, ma voi state male ragazzi State male Ma è difficilissimo sto gioco Allora raga Porca madonna Allora c'è questo teschio di merda Ok Questo per forza è un indizio Ok Non trollate Non provo un numero di a caso Vedo 7 buchi sulla bandana Allora La soluzione è in questo fottutissimo disegno, ok? Ve lo dico io No, raga, io non ce la faccio Ma ci vuole una laurea a superare sto gioco Ma eh, spetti da ritrollarmi, zio cane Io sulla testa delle tesche vedo un 4 Ok, questo è un 4 Basta, raga, basta Ma va fuori il culo, gioco di merda Ma che era stupidissimo E allora va a scherberlarci come degli idioti, madonna troia Ok Oh mio Dio Ok Ma stai zitto Lorenzo, sono troll di merda Io non ascolto più Lorenzo, mai più Ok Siamo nel film ragazzi Siamo nel film ragazzi Ciao Giovanni Che cazzo vuoi? Dai un manichino Allora, di constatazione amichevole non ne parliamo neanche eh Sono alleva Ok Ah che qua sono alleva Oh 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 Ciao Ciao Oh cazzo troia Ah sono troppo bravo Porco Dio Che credo che faccio paura su già Non fa paura Io mi dico paura Cazzo E Esatto Mi l'aspettavo Ok va bene Ok, ok Ok, va bene Questi manichini sono pericolosi, ragazzi Sono effettivamente pericolosi Oh, no, devo passare qua sotto Oh, Dio, questi manichini mi fanno paura Raga, non mi posso muovere Oh, Dio Ok, ora posso muovermi Ciao, Freddy Porca puttana Ok, sono tutta la scala Alla prossima Basta tra l'armi Lorenzo No, no, non mi voglio girare Mi giuro non mi voglio girare Ok Dove devo andare No, no, non mi voglio girare